I'm the bad guy, duh. E' sempre bello venire qua. Oltre ai crostini però l'azienda Montella fa sicuramente altri prodotti. Noi siamo fortunati e siamo contenti del lavoro che stiamo facendo perché da due settimane circa tutto il nostro pane è grano 100% italiano. Quindi non solo una produzione di pane biologico ma oggi anche tutto il nostro convenzionale è grano prodotto in Italia. E quindi questo per noi è stato un lavoro molto lungo però siamo molto molto felici di questo. Quindi a questo associamo la nostra linea di derivati che è piuttosto strutturata, il senza glutine, come ripeto il biologico. Quindi siamo un'azienda aperta a tutte le esigenze dei nostri consumatori.